Musica Cantotrice, conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice, moglie e mamma di due splendide ragazze. Lei è una delle voci più belle, calde e intense della musica italiana. Nel 1995 ha vinto il Festival di Castrocaro e da allora non si è più fermata, tra diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, premi della critica, festival bar, hits di successo e poi ancora in radio, in tv e anche in teatro. Dopo una pausa dalla musica è tornata più energica e gioiosa di prima. E dopo il successo di Chagall, tra sonorità attuali e la profondità tipica del suo canto autorato, Silvia Salemi ci regala un nuovo singolo. Oggi è qui con noi e si racconta ai microfoni di S-Life. Chi è Silvia Salemi oggi? Oggi Silvia Salemi è una mamma, un'artista, una conduttrice, una cantautrice, una mamma che stira, che lava, che asciuga, che ammira. Faccio tutto, tutto quello che devo fare lo faccio, sono pronta. I sogni nelle tasche è il tuo ultimissimo singolo, un inno alla positività? Un inno alla consapevolezza, un inno alla riflessione, un inno a lanciare il cuore oltre l'ostacolo, non crearci da soli, diciamo, dei puntelli che ci possono bloccare, ma andare sempre avanti con coraggio. I sogni per te, un rifugio per scappare dalle paure o coraggio per migliorarsi? Un momento per fare il punto della situazione e ripartire più forti di prima. Hai scritto questa canzone tra gli altri insieme a Marco Masini, più orgoglio o responsabilità? Tutte e due, tutte e due, un team di lavoro così bello che adesso la responsabilità è grandissima, siamo tutti carichi e speriamo che sia un'avventura meravigliosa, li ringrazio tutti. Beh, ce ne fai sentire un pezzettino? I sogni nelle tasche scalano la vita cercando nel senso come spinti dal vento. È possibile perché non c'è più niente che possa far male, poi mi faccio anche la mia imitazione di me stessa perché mi sento ridicola. Non posso non chiederti, a casa di Luca, ancora grata o un successo diventato troppo pesante? No, sempre grata, tutta la vita, mamma mia, ma avercene, io non potevo desiderare un regalo più grande dopo le mie figlie, chiaramente, che questa canzone, che ogni volta che la canto è un'emozione e mi ricorda che cosa significasse essere una diciottenne, appena diciottenne, sul palco più importante della nostra musica e quindi, mamma mia, grazie a Dio e grazie averla avuta e grazie alla fortuna anche, no? Perché sono anche colpi di fortuna. E se ti chiedessero di fare un nuovo arrangiamento, lo rifaresti? L'ho fatto, l'ho fatto per il disco 23, l'ultimo disco che ho fatto, dove l'ho rivista in una chiave più, più, se vuoi, sognante, più elettronica, quindi quella era una versione suonata, l'originale, molto suonata, e quella di oggi, fatta oggi, è una versione più, appunto, più da studio, più da, veramente da computer, sintetica, perché volevo un'emozione, in una canzone così vera, volevo sentire un'emozione un po' digitale, un po' attuale. Beh, se ti dico più cantante o speaker, come ti senti? Più dalla parte del pubblico, tutto quello che mi porta a contatto con le persone, tutto quello che mi fa arrivare a loro, sentire che cosa sta succedendo nel mondo, e quando dai una canzone al mondo è un regalo che stai dando, e arriva a loro, e poi loro con i commenti, con le lettere, una volta, ti restituiscono il loro pensiero. Quando fai la radio è un botte risposta immediato, perché l'ascoltatore scrive, chiama, telefona, quindi il pubblico. E' più mamma o moglie? Mamma, mamma perché mamma sempre, e mamma, moglie prima, perché sì, va bene, per diventare mamma nella mia testa, dovevo prima essere moglie, va bene, quindi in ordine di tempo. Però ci sono tante mamme che non hanno un marito a fianco e sono comunque delle mamme meravigliose, o perché hanno scelto di non averlo, o perché non c'è nella loro vita in quel momento. Ma insomma, la mamma è la mamma. Hai due bellissime figlie, più complici o signorina da tenere un po' a bada? No, complici quasi mai, guarda. Se diventi complice delle tue figlie, fai il più grande errore che possa fare una madre, perché una madre deve essere un ascolto continuo, deve essere un flusso continuo di disponibilità, purtroppo, quindi non ti riposi mai, però guai a mettersi al loro livello in senso quasi di furbizia, di volergli portare via una cosa, un pensiero, perché dopo così loro... No, io vi ascolto, sono qui, non vi giudico, vi aiuto, però sono la mamma, non sono la vostra amica. Per le confidenze da amiche ci sono le amiche. Loro amano molto lo sport, come lo definiresti? Sana competizione rispetto dell'altro è? Disciplina, ordine, sacrificio, sudore, impegno di stare lontani dall'eccessivo uso dei social, che sono molto utili, ma non bisogna degenerare. E quindi lo sport, credo, come la musica, per me è stata la musica, no? Ma per loro è lo sport, sono quelle grandi fonti di droga sana, no? Che sono le endorfine, che sono tutte quelle emozioni che ti mette in circolo la canzone, come anche il colpo di racchetta o chi calcia la palla in campo per il calciatore, insomma, quell'emozione di cercare il punto, di cercare l'altro nel campo, insomma, droghe positive, ragazzi, diciamolo. E Silvia, sport tutta la vita o divano e relax? No, divano e relax, che sport! Allora, il più grande sport è la vita, quindi la vita è salita e discesa esattamente come le competizioni ciclistiche, esattamente come fatica, come stare in campo da tennis e quando capita magari uno si mette a fare lo sport vero, però è un secondo in tutta la vita, che poi c'è il divano ovviamente. E invece a tavola, buongustaia o attenta alla linea? No, perché? Attenta, no. Attenta nel senso che non mangio di tutto, cioè dire non mi butto su qualunque cosa, mi piacciono i nostri sapori del sud, mi piace anche la cucina esotica, mi piace provare cose, però fondamentalmente amando mangiare. Chi ama veramente mangiare non mangia tutto così a occhi chiusi, insomma, anche nelle quantità, perché sai che se abusi il cibo non te lo gusti, quindi le giuste quantità, le giuste commistioni, l'olietto buono sopra, il pane e olio, il pane di quello di una volta con i grani vecchi. No, ragazzi, non esageriamo. Bisogna mangiare e mangiare bene. E il piatto al quale non riesci a rinunciare? Pasta col pomodoro, ovviamente. Il pomodoro è una spolveratona che non si vede più niente di parmigiano. Chiaramente i veri intenditori dicono che non ci andrebbe messo il parmigiano perché copre, dicono, però invece io proprio faccio un bastone meraviglioso, anzi anche un po' al dente, ed è un'emozione, cioè più di una canzone è un piatto di pasta, guarda, li assicuro. È capitato che a volte hai detto che hai un brutto carattere. Il tuo peggior difetto? Allora, non lo so chi ha detto che è un brutto carattere, se l'ho detto io sarà vero, sicuramente. Diciamo che sono una persona forse anche troppo disciplinata, quindi cerco di disciplinare anche chi sta intorno a me e questo non è sempre sopportato, perché magari chiedo molto alle mie ragazze, chiedo di essere ordinate, gli sto molto addosso, molto dietro, però credo che insomma ognuno di noi ha dei difetti, quindi bisogna cercare di conviverci, di non essere troppo dannosi per le altre persone con i nostri difetti e accettarci. Insomma, l'importante è non giudicare mai le altre persone cercando di migliorarsi. Quindi ecco, crescendo mi sono accorta che quell'irruenza tipica dell'ariete sta piano piano scemando, rimane l'istintività nel senso che sono spontanea, sono verace, però al tempo stesso poi capisci che tante cose le hai smussate con gli anni. E il tuo pregio invece? Non lo so, il mio pregio spero sempre, provo a fare autocritica, non ci riesco sempre, però dico sempre vediamo, insomma posso migliorare in che cosa, forse cercare di fare autocritica potrebbe essere un buon punto di partenza per cercare dei pregi. E se pensi alla tua Sicilia, la prima cosa che ti viene in mente? Un grande pregio, siciliano è pregiato, siciliano è pregiato per definizione, perché mangi bene, dormi bene, mare bello, gente accogliente, ecco la prima cifra che abbiamo noi storicamente è sempre stata l'accoglienza. È un po' anche stato il nostro grande così problema, perché poi alla fine l'abbiamo accolti tutti storicamente, però di base la Sicilia ha questo cuore grande, questa isola immensa in un grande mare luminoso e io me lo porto dentro, quindi sì, la Sicilia è il mio pregio, brava, eccolo. Grazie Silvia, lascio un saluto ai nostri ascoltatori. Un abbraccio ragazzi, vi dico solo una cosa, un abbraccio, perché quello che ci è mancato di più sarò banale, ma io tutte le volte che posso riabbracciare qualcuno lo faccio, perché è una grande grande emozione che ci è mancata tanto, che abbiamo dato per troppo tempo per scontata e di cui speriamo ci stiamo riappropriando. Ricordati che niente è impossibile per quelli come noi che hanno i sogni nelle tasche e scalano la vita cercando nel senso come spinti dal vento è possibile, perché non c'è più niente che possa fare male e il tuo passato accade come fiocchi di neve che si posano sempre più giù. da domani ci sei solo tu grazie a tutti. Grazie a tutti.